Seconda parte di Angoli l'ho anticipato in apertura, sono lieta di dare il benvenuto, il ben ritrovato perché ce l'aveva promesso che sarebbe ritornato prima della fine della nostra stagione di Angoli a Giancarlo Panteghini, buonasera. Buonasera. Come sta? Bene? Abbastanza bene, dai. Le voglio ricordare Giancarlo, allora ci siamo visti poco tempo fa, presidente del caseificio Cisba, noi ci eravamo lasciati l'ultima volta per chi ha buona memoria dicendoci insomma ci sono così tante novità nel nostro caseificio che ritorneremo a parlarne, ha mantenuto la promessa grazie. Parlavamo di pentole, che bolle qualcosa in pentola. Dicevamo bolle sempre qualcosa in pentola e adesso è tornato proprio per dirci che cosa salta fuori di buonissimo da queste pentole. Prima di arrivarci, per tutti coloro che la vedono per la prima volta, magari ricordiamo di che realtà parliamo quando nominiamo Cisba. Di che caseificio si tratta? Dove siete? Noi abbiamo sede a Capodiponte, siamo un caseificio che ha più di 30 anni, all'interno di questo caseificio ci sono 70 soci che consegnano il latte, più altri 32 conferenti, praticamente sono più di 100 aziende agricole che consegnano il latte da noi, noi una parte la trasformiamo, una parte in formaggi e una parte la vendiamo poi nella pianura bresciana e veronese per fare il latte wacati o le varie mozzarella e quant'altro. E' il regno diciamo del buon e ottimo formaggio della Val Camonica, è vero? Esatto, poi siamo immersi nell'incisione rupestri perché ricordiamo che uno dei nostri prodotti è una coppia, è stato copiato dalle famose incisioni rupestri di Capodiponte che è la Rosa Camuna. Dunque per chi magari ha visitato questi siti magari anche con le visite scolaresche o chi ha accompagnato i propri figli sicuramente ci ricorderà questo stemma. E voi ne avete fatto proprio un po' un simbolo, visto che lo è già del territorio per le incisioni, l'avete proprio trasformato in una forma di formaggio buonissimo. Sì, diciamo che per le incisioni è un simbolo di storia millenaria, di cultura. Per noi è diventato un simbolo di lavoro, di sicurezza alimentare, di mania calica nella cura del formaggio, nella cura degli animali, perché in Valcamonica, ma non solo, l'arte contadina in questi anni si è evoluta. Oggi, come dico spesso, e mia moglie me ne vuole sempre, tante volte il contadino, l'allevatore vuole più bene i propri animali che la propria moglie o i propri figli, perché ci vive talmente tanto insieme che diventano parte di sé. Beh, questa è una buona forzatura, sicuramente, però tanto per far capire com'è forte il legame tra territorio, allevatore o malghese o quello che vogliamo, perché è quello che cura gli animali, e un formaggio e chi visita la Valcamonica. È vero, è vero. No, si parla veramente di una tradizione, di un territorio che viene portato avanti da tutti voi quotidianamente, da tantissimo tempo. Il territorio, se non ci fossero queste persone, insieme ai turisti, il territorio veramente sarebbe, non sarebbe più vivibile, perché non ci sarebbero più sentieri, non ci sarebbero più strade, dunque, tra chi ama la montagna, visita la montagna, compra questo formaggio e chi è sul territorio, Tiene in vita la montagna. Esatto, fanno una simbiosi e tengono in vita questo territorio, non solo nel Bresciano, nel Bergamasco, ma anche nel Comasco, in Valtellino, cioè in tutte le zone di montagna, questi valori sono fondamentali e vanno salvaguardati perché è un bene, è un patrimonio che noi dobbiamo e abbiamo l'obbligo di tramandare ai nostri figli, come hanno fatto i nostri padri con noi. È vero, ha detto delle parole bellissime e sono molto importanti e le voglio sottolineare, perché comunque sia, veramente si parla di una tradizione che racconta una storia, una storia che deve essere portata avanti, come lei diceva, e lo si fa con passione. Quando dico così è perché riprendevo un po' le sue parole che giustamente diceva noi abbiamo una filiera di eccellenza, cioè dal momento in cui si dà da mangiare all'animale al momento in cui abbiamo la forma di formaggio tra le nostre mani, ci sono stati tantissimi passaggi ma dove si mira sempre al meglio, anche poi per la sicurezza della persona che va a consumare i vostri prodotti, giusto? Esatto, perché quella è la nostra forza e il nostro futuro. Noi dobbiamo veramente migliorarci sempre di più e andare incontro a quelle che sono le esigenze dei nostri consumatori. Lei come sempre ci vuole ingolosire, ci vuole rubare gli occhi, ce la fa sempre, grazie al nostro Mauro Fontana stiamo vedendo un po' quella che è una piccola esposizione simbolica. Abbiamo aggiunto anche il vino perché per mangiare un buon pezzo di formaggio, sia questo stagionato o tenero, bisogna sempre avere anche un buon bicchiere di vino. Ma questo è l'arte dello star bene a tavola, sì esattamente. Allora mi dica che cosa ci ha portato, tanto a poco a poco li vediamo tutti. Noi abbiamo portato la nostra classica rosa camuna, la rostichella, la damello, il silter, il latte, perché senza il latte non staremo parlando di questi gusti, di questi prodotti. Il latte è la base di tutto. Un po' l'ho trasformato in formaggio ma c'è il latte buono da bere. Sì, noi siamo stati alla prima azienda, non solo a Brescia ma diciamo in Italia, che ha certificato e ha garantito che nella bottiglia finiva il latte italiano, ma ancora di più finiva il latte di montagna della Valcamonica del Sevino, Lago di Zeo. Sono stati i primi e poi pian pianino ci hanno copiato. Però noi questa bottiglia e questo 100% latte della Valcamonica del Sevino, ormai sono più di 7 anni che l'abbiamo sulla bottiglia. Siete stati dei precursori. Sì, perché io ce l'ho sempre nel cuore quello di, visto che ci metto anche la faccia tante volte, di dare garanzia, di dare qualcosina in più ai nostri consumatori, perché non lo dobbiamo, ma lo dobbiamo per quello che rappresentiamo. Dunque su questo non bisogna transigere. Anche i nostri formaggi vanno proprio in questa direzione, perché ad esempio possono essere mangiati anche da chi soffre di ciglia di cia, perché noi non usiamo farine per asciugare le croste, dunque che sono tantissime persone. Certo. Abbiamo parlato dell'altro prodotto, oggi ne presentiamo un altro sempre andando incontro a quelle che sono le richieste della società. È vero. Perché oggi si modificano un po' e le esigenze cambiano. È vero. Io guardi, prima della grande novità della giornata, voglio ricordare come faccio sempre www.cisvacommerciale.it perché è importante, perché così si hanno tutte le informazioni sul loro lavoro, sul territorio, sulla Valcamonica, ma soprattutto se siete nei paraggi ci sono tutte le indicazioni per i vostri punti vendita sul territorio. E in questo modo si può raggiungere e provare i prodotti sul territorio stesso, che hanno un sapore ancora più buono quando vengono mangiati lì, è vero? Perché oltretutto noi adesso nell'ultimo negozio che abbiamo aperto lì a Esine, alla zona sosta sulla statale 42, che attraversa la Valcamonica, l'unica strada che passa in Valcamonica. È un'area di servizio. Abbiamo aperto questo spaccio, c'è il bar adiecente. Facciamo anche, con molta cortesia, con molta disponibilità, degustazione anche per chi fa le gite con i pullman, proprio per andare a far assaggiare questi sapori, questi formaggi. All'interno si trovano anche formaggi di malga, con la classica pasta gialla o panierina. Dunque, io dico, chi passa dalla Valcamonica non può non fermarsi a gustare queste cose. I biscotti delle castagne, cioè veramente se uno si ferma si troverà soddisfatto o al massimo c'è lì il sito, se non si trova soddisfatto scrive al Presidente e si lamenta. Il Presidente Giancarlo Pazteghini risponde. Nero, certo. Abbiamo quattro minuti, allora, anche per il vino che ci ha portato in studio, trovate tutto poi quando vi fermate a fare il famoso spuntino. Comunque si parla del vino del vostro territorio, si sposa tutto con i formaggi. La novità di oggi però è che presentate un formaggio senza lattosio. Esatto. Abbiamo fatto delle ricerche, abbiamo fatto delle prove, oggi lo presentiamo senza etichetta perché siamo in attesa, è un'anteprima proprio... Spieghiamo il perché, esatto. Sì, è probabilmente un'anteprima proprio per voi, l'ho portato. Grazie. Abbiamo ferma la pratica al Ministero della Salute, appena avremo l'ok, l'edichetta è già pronta e sarà uno specchio di quello che è il territorio. Questo formaggio è senza lattosio. Questo cosa vuol dire? Spieghiamolo. Praticamente viene trattato con la lattasi, con degli enzimi che vanno a distruggere molecole del lattosio e li fanno diventare digeribili e dunque per chi ha le intolleranze verso il lattosio questo formaggio può essere mangiato. Lei si rende conto che è una novità che farà felici tantissime persone? Sì, perché abbiamo sondato anche il territorio non solo della valle ma a livello nazionale e abbiamo scoperto che tantissime persone soffrono di questo disturbo. E' proprio l'intolleranza diffusa. Anche qua abbiamo fatto una lavorazione naturale, non usando niente di chimico. Visto che è un'anteprima assoluta, io la ringrazio ancora una volta perché siamo onorati che ce l'abbia presentata oggi e abbiamo capito che arriverà poi l'edichetta ufficiale. Ci possiamo sbilanciare su quello che sarà il nome o dobbiamo aspettarlo? No, il nome è Zero Latt. O Zero Lattosio. Però siamo lì un po'... Esatto, c'è il senso di quello perché vogliamo dare un'informazione chiara al consumatore. Non ci devono essere dei dubbi su quello che sta mangiando. Scommetto però che se i nostri telespettatori andranno su www.cisbacommerciale.it una volta che ci sarà tutto, uscirà. Poi adesso noi abbiamo presentato una pezzatura di 1,2 kg. Però le pezzature saranno da 300, 500 a 1,2 kg. Anche perché, come è il piccolo cuore alla sevinella, forme piccole, in modo che se anche uno è singolo o sono solo due persone, si comprano una formetta piccola, se la mettono in frigo, con un voglia, la tolgono, la mangiano e hanno sempre un prodotto fresco. Bellissima questione. Che è la cosa più importante. Per quanto riguarda il sapore, cosa dobbiamo aspettarci? Una volta aperta la forma, che tipo di formaggio è? Rimarrete piacevolmente sorpresi perché alla fine vi lascerà un gusto dolce in bocca, inimmaginabile per un formaggio. Ma ha piacevolmente sorpreso anche me. Eh sì, lei è il primo test. Perché io senza lattosio, come si fa? Come? Come, è veramente una cosa eccezionale. Veramente una cosa eccezionale. Noi stiamo vedendo comunque tutta la gamma, guardi, rubano veramente gli occhi. Questo è l'ultimo neonato senza lattosio, prendetene veramente noto. Sempre latte pastorizzato, perché noi ricordiamo che abbiamo anche dei prodotti, come è la rustichella, anche il latte crudo, dunque per chi ha voglia di sentire veramente il gusto forte del latte sul palato. Sicuramente quei prodotti Cisola lo trova. Eh, signor Panteghini, ci è rimasto un minuto, facciamolo, è ora di cena. Via, le bottiglie di vino. Allora, a quest'ultimo neonato senza lattosio, che bottiglia ci abbiniamo? Ma io gli abbinerei un buon vino bianco, un coppelle, che è veramente un vino che ha dei profumi di eccellenza, io lo abbinerei. Sì, ce la sentiamo bene. Invece sul Baldamì magari lo consiglierei per mangiare un buon pezzo di nostrano o un silter. Eh vabbè, abbiamo avuto anche l'abbinamento per come accompagnare questi... La situazione è che il vino rosso va bevuto a temperatura ambiente, invece il coppelle rigorosamente fresco. Eh. Perché anche se è un vino fermo, ma rigorosamente fresco. Bene, abbiamo tutte le indicazioni per gustare i sapori della tradizione della Valcamonica. Ringrazio moltissimo per essere stato con noi questa sera il presidente del case edificio Cisva, il signor Giancarlo Panteghini, grazie. Grazie a voi e saluti a tutti i telespettatori. Insieme a lui siamo arrivati al termine anche di questa puntata di Angoli. Vi ringrazio per essere stati insieme, vi aspetto domani sera. Come sempre, ore 19, saremo qui pronti puntuali con tanti nuovi ospiti e argomenti. Adesso la linea va all'informazione, se volete rivedere le nostre puntate vale sempre, sempre il sito www.espansionetv.it. Buona serata a tutti.